Grazie a tutti. Quanti animali conosci? Facciamo così. No, e fa domande, dice grande o piccolo? Grande o piccolo. Dove è l'acqua? Ah, che? Tutte e due. Allora, ti faccio io una domanda e tu mi rispondi. Quali animali conosci? Inizia per lì. Iguale? No, è molto più grande. È un animale africano. Sì. È selvaggio. Spesso si trova in trovare... Ma io devo trovare una nuova da boi. Ma io devo... Ma che passacca? Ah. Inizia come lì. Questo che è effetto blackout. Blackout. È effetto... No. Non è effetto. Ci sei effetto. Se hai scritto blackout, hai mangi un sacco blackout? Solo blackout se hai scritto. Passi. Blackout o blackout o blackout. Che è il popotamo. Che è il popotamo? Ah. Ehm... Sono una cosa. Sì. Che su qua? Ah, blackout. Blackout. Non è blackout. Dici che è blackout. Sarebbe un ucinetto. Blackout. È un ucinetto. Allora, questa è una parola formata da due. Oh. È metà pesce e metà un animale. È una razza di pesce. Eh. Però se non lo conosci, scusa. No, non è la mia zia in Michela. Ah. Ah, trota. No. È un po' più grande. Tonno, squalo. No. Squalo, ci siamo. Squalo. Ah, c'è una razza. Che è mista con un altro animale. Non è che sta in acqua, sta sulla terra. Di solito è nelle foreste, più o meno. Vanno sempre a caccia. C'è una cosa lunga, ho parlato. C'è stata in buscita, no? Squalo, tigre, no? No. Sì, nelle foreste. No, no, non è più. Vedi, l'altro animale stanno le vere foreste. È incolmabile, però poi. Squalo, scusa, lo squalo sta... Lo squalo va bene, però si chiama... Quale ha tre tipi di squalo, quale conosci? Squalo? Squalo, squalo martello, squalo tigre. Diciamo che la capita di un figlio è una delle cose più statistiche. Ti arrendi? No, fammi più domande. C'è più risposte. Eh... 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 Beh... Vabbè, già mamma ti ha detto che è grande. Ok, hai indovinato già, squalo e poi c'è un altro nome legato che è la razza del squalo, lo chiamano squalo e poi c'è un altro animale associato. Ah, ecco, ed è un animale che a te piace, un genere, che non mi spesso. A meno... Non mi spesso. A me non tanto. Cioè, allora, è un animale che non mi spesso, lo squalo e poi c'è quest'animale che non è mai vista vicino. Con quale inizia l'altra valora? D. La D? D di Vincenzo. Ah! Squalo. Quanti animali ti piacciono, Natti, che di solito ti piace e ti segui? Un po', ti piacciono tutti gli animali. Eh, qual è quello là che segui come personaggio, anche? Dici gli animali che conosci, eh? Eh, vabbè, gatto, cano, zello, tartaruga. Come personaggio di fumetti. Ah! Chi c'è? Ma non ti fai un modo che vuole essere là. È blu! E Sly che razza è? È un prusone. E poi che ci stava più? Lei? Ah, volpe! Eh, squalo-volpe. Perché esiste? Eh sì, l'abbiamo visto sull'audio. Sono anche molto grandi. E sono anche di vari colori. Di vari colori. Però in questo caso ne è uno solo. A volte li faccio io una volta. Occhi! Gli occhi! Gli occhi! Gli occhi! Gli occhi! Sei esotico? Sì! Molto kawaii! Vuol dire molto carino! Molto? Carino! Kawaii! E' molto kawaii! E' molto kawaii! E' molto kawaii! Esiste? L'abbiamo visto prima ma? C'è l'abbiamo visto ieri! Viene estensione! L'abbiamo visto ieri! E' questa stitla? Dopo? No! Vabbè non è di estensione? Sì! Oh! Esiste? Sì! Viene estensione? Sì! L'abbiamo visto ieri! C'è ieri abbiamo visto il pelusso di questo animale! Gli piace tanto il bambù! Ah! E' koala? Mmm... No! Panta? Sì! E' arrivato di stanza? No! E' un pelusso attaccato alla... Alla domanda! E' un personaggio reale? No! Non è un personaggio! Un animale? No! E' un attore? No! Uomo? No! E' un vegetale? E' un fiore? No! E' un fiore? No! E' una pianta? No! E' una pianta? E' una pianta? Comestibile? E' un animale? Per gli animali si! Vabbè a qua lo troviamo pure in dei piatti però! E' capitato eh? No! Si! In giapponesi... Nei parti giapponesi! E' un bambù! Ehi! Cosa sono un animale? No! Sei una persona! Una persona! Tu sei? Sia un animale che una cosa! Sì! Sia un animale che una cosa! Fuori! A me ne si. Allora... Le domande! Sui qual è il mio sport? Ah... Ha detto che è un personaggio? Es è una persona giusto? E' un personaggio famoso? Si... è stato famoso! Ma è dimostrato un anno? Ma è Nicola temperature? Mmh... Dai! Fa 20 ore! Guarda! Ma non capisco qu 662! Allora.. E' un animale che una cosa! E' un animale che una cosa! uomo. Ah, 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 ok. Il scimartello? No. Il scimartello è una cosa. Date un suggerimento. Eh beh, è una cosa del martello. È una cosa che si usa d'inverno sulle montagne. Si rompe il legno, vedi, col martello. No, no. Il scimartello è una via di mezzo. Comunque è anche un animale, ricordalo. Quindi si non è un animale. La domanda tu. Ha ricevuto qualche premio? In un certo senso è lui a portare un premio. È comico. Ok. L'arpa dei morti deventi. Eh, ehm. Allora, è piccolo o grande. Ah, ha fatto prima la cosa. La cosa all'animale. Allora l'animale è piccolo, la cosa è grande. Come inizia per la G? Inizia per la G. È un animale che a te piace, che è sempre piaciuto dall'inizio. Mi piace a tu quest'animale. Prima del coniglio. Bravo. Gatto. Gatto. Poi? Gatto. 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 La cosa con... Quale inizia per la cosa? Gatto. Gattonella. Gatto. Credo per divertire. Grazie. E' lui che lo dà, il premio. Uno dei tre. Vengono in tre. Io dal premio, dal dono. Il dono è il premio. Mi doi della volta. Mi doi della volta. Una volta all'anno lo danno sto dono. Una volta all'anno? Questa persona lo porta una volta all'anno. E' colpare una volta all'anno. Nelle nostre case. A meno per chi ci crede. Ciao. Babbo Natale. No. Vabbè, portidoni, però non è Babbo Natale. Vieni sempre in compagnia di due persone. Non è Krampus perché è il fratello gemello cattivo dei Babbo Natale. E' Portidoni che è il fratello cattivo? No, sta sotto sotto. Mettiti seduta. Aio. Poi la ripresenta. Ah, no. No. Ah, ma sta registrando? Sì, sì. Sono dei Re. Ah, i Re Magi. E' uno come si chiama? Dicino. Eh, io. Non lo so. Babbassate. Poi? Io sono lui, conosco. Eh, come si chiama quell'altro? Zuzurro. Nel Chiorro. Scusa, 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 scusa. Fai le domande. A lui. Fai le domande. Non si mangia questo. No. Non si mangia. Si beve. Si beve. A Coca-Cola non è perché non mi piace. No. Il vino è questo. No, l'alcolico. Poi c'è salabino. E' alcolico. E' molto alcolico e puzza. E' molto alcolico e puzza. E' molto alcolico e puzza. No, puzza. L'alcolico e puzza. Puzzza. Puzzza. Credo. E' la grappa che puzza. E' la grappa che puzza. No. E' la grappa. che puzza. Paolo. Mi piace questo. E' Malloccia. Le proprie d'angelo. Sternenzi. Le proprie d'angelo., lo dirtice io non posso fare bene. Ma altraadi. Ma dauerti di cose non stopp张 da piccari viste, ho detto già poi che abbiamo affitto. E' un coniglio. No, è un animale molto... Piccolo, piccolo, piccolo. E' vicino? E' vicino. E' vicino? un mille piedi, un vermo un vermo, un vermo ben animato, rana ben inzetta lumata sì